Siamo qui con Marco De Micheli, Senior Sales di AXA Investment Manager, al quale vogliamo chiedere un po' le prospettive per questo 2020. Buongiorno a tutti innanzitutto. Le prospettive per il 2020 saranno un po' più volatili dell'anno precedente. Noi vediamo un leggero rallentamento per il 2021, quindi per l'anno successivo, e ci sarà un momento durante quest'anno in cui questo rallentamento verrà apprezzato dai mercati. Quindi, magari non fra un mese, magari non fra tre, ma ci sarà un momento dell'anno in cui sarà opportuno cambiare strategia. Da un lungo direzionale, che ha funzionato benissimo lo scorso anno, ad esempio, a una strategia più di compressione del rischio, più di mantenimento della stabilità di portafoglio. La cosa difficile da capire è fare timing, cioè quando sarà effettivamente questo momento durante quest'anno. A proposito di strategie, AXA Investment Manager, su cosa vuole puntare? Su quali aree o su quali prodotti? Quest'anno forse è più opportuno avere dei fondi flessibili. Nel senso che, ripeto, lo scorso anno erano meglio i direzionali, i tematici, i lunghi, diciamo. Quest'anno, proprio perché con lo strumento fondi diventa difficile cambiare rapidamente un portafoglio, è opportuno avere dei portafogli sia obbligazionari che multi-asset flessibili, dove il gestore può variare l'approccio al mercato, l'attacco al mercato, agli asset rischiosi, in maniera rapida e seguendo negli andamenti. In particolare, noi come AXA Investment Manager siamo abbastanza impegnati nell'ambito obbligazionario. Abbiamo un ottimo fondo obbligazionario flessibile che ha dato ottimi risultati lo scorso anno e che quest'anno sarà in grado, riteniamo, di poter contenere il rischio di portafoglio dando anche dei rendimenti interessanti, che nelle obbligazioni con i tassi così bassi alla fine non ci sono più. Grazie mille. Grazie a voi.